Durante le Dragon Ball World Tour Finals 2022-2023, Banda in Anco America ha svelato inaspettatamente il primo trailer di un nuovo Budokai Tenkaichi, che proprio sicuramente chiameremo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Il taser, realizzato con quella che ci auguriamo essere la grafica del gioco, mostra un guoco trasformarsi in Super Saiyan Blue, con però l'iconica posta che assumiamo nella serie videoludica. Oltre a questo, il taser trailer mostra anche alcune sequenze dei primi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, catturate su uno schermo a tubo catodico e che sicuramente scateneranno una bella ondata di nostalgia negli appassionati. A concludere questo video troviamo poi la fatidica scritta che conferma il tutto, un nuovo Budokai Tenkaichi sta per iniziare, purtroppo il materiale mostrato non è definitivo ed è relativo al materiale di sviluppo. Di conseguenza, non abbiamo neppure una possibile finestra temporale, nell'hardware su cui girerà, che ci auguriamo essere current gen così da spingere molto sul comparto tecnico, in particolare la distruttibilità degli ambienti di gioco. Quel che è certo è che il progetto esiste e i giocatori potranno rivivere l'esperienza di Budokai Tenkaichi a oltre 16 anni dell'ultimo capitolo, pubblicato su Nintendo Wii e PlayStation 2. Ricordiamo che da allora non sono più usciti i capitoli incentrati sulla serie Budokai Tenkaichi. Bandai Nanko ha provato più volte a riproporre formule simili, avvicinandosi particolarmente con la serie Raging Blast, ma senza trovare quella magia. Adesso vi metto qui il trailer. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ciao.